Gian Guido D'Alberto è da oggi il più giovane sindaco che Teramo abbia mai avuto. 41 anni, esperto di diritto costituzionale, a capo di una coalizione civica appoggiata dal Partito Democratico, si è imposto al ballottaggio con 7 punti di distacco su Giandonato Morra, centro-destra, ottenendo il 53,26% di consensi contro il 46,74% del suo sfidante. Eppure si partiva da una differenza di quasi 12 punti del primo turno a favore di Morra, ma si sa che il ballottaggio è tutta un'altra storia. La lunga nottata che ha decretato il ribaltone dell'elettorato Teramano è iniziata già con qualche incertezza sulla vittoria del centro-destra poco prima della chiusura dei seggi, quando sono stati resi noti i dati della scarsa affluenza alle urne che si è attestata al 50% dei votanti. Nell'ultimo ballottaggio del 2014, che vedeva contrapposti Maurizio Brucchi e Manola Di Pasquale, per pur bassa la percentuale degli aventi diritto al voto si fermò al 57,6%. La tendenza è stata subito chiara, prima un testa a testa e poi il sorpasso. A mezzanotte e mezza, Adalberto aveva già fatto la sua prima dichiarazione da vincitore all'interno del suo comitato elettorale, tra i tanti sostenitori ancora incredoli e storditi dal risultato. Il nuovo sindaco ha dedicato, con le lacrime agli occhi, la sua vittoria a suo padre Giancarlo, che non c'è più, e a chi ha creduto in lui sin dall'inizio. Un pensiero affettuoso anche agli altri candidati sindaci, Cavallari, Covelli, Rocchetti, Cardelli, Di Dalmazio e soprattutto Gian Donato Morra, per la correttezza e la signorilità dimostrati in campagna elettorale. Uno stile che Morra non ha perso nemmeno di fronte alla sconfitta. È arrivato nella sua sede elettorale a luna di notte, accolto dall'affetto dei suoi sostenitori. Amareggiato, deluso, sì, ma già pronto ad impegnarsi come oppositore dialogante. Il suo primo commento a caldo è stato per il popolo delle ciambelle, quei terramani cioè che hanno preferito il mare alle urne. Ma dopo l'analisi del voto, Morra ha attaccato duramente, senza mai citarli apertamente, i due importanti politici terramani, Paolo Tancredi e Mauro Di Dalmazio, che lo avrebbero abbandonato e tradito in maniera ignobile dopo aver pasteggiato per anni proprio con il centrodestra. Per Morra sono loro i veri perdenti e i nuovi apolidi. Anche Paolo Gatti ha riconosciuto quasi subito la vittoria di Dalberto e sui social gli ha inviato gli auguri di buon lavoro. Intanto si attende di conoscere la squadra di assessori del nuovo sindaco. Sicuramente ci saranno tante donne e tanti giovani. Questa è la prima tra le promesse del quarantenne primo cittadino di Teramo. Tutti insieme, non solo insieme a tutti i candidati, a tutte le liste che sono qui presenti, a tutti i cittadini che stanno festeggiando con noi questo piccolo miracolo politico che era impensabile fino a qualche tempo fa perché veramente in pochi ci credevano e siamo riusciti mettendo in campo un progetto e avviando un percorso di coerenza, di trasparenza, di chiarezza a mettere le basi per cambiare le sorti della nostra città. Ci aspettano delle sfide durissime e difficilissime, ma io sono convinto che tutti insieme, tutti insieme noi ma soprattutto insieme alla città e ai cittadini perché dobbiamo aprire le porte del nostro comune, dobbiamo aprire le porte delle istituzioni, dobbiamo aprire le porte della politica alla città, è iniziata e deve iniziare la stagione della condivisione, della partecipazione, del dialogo, della ricostruzione che non è solo una ricostruzione materiale ma è una ricostruzione morale, sociale, economica, culturale. Da soli sicuramente non potrò farcela, da soli sicuramente non potremo farcela ma insieme, tutti insieme noi potremo sicuramente scrivere una storia diversa per la nostra città insieme anche ai nostri avversari politici che ritroveremo insieme in Consiglio Comunale perché veramente si deve aprire una stagione del dialogo, del confronto, le sfide sono enormi. Non nascondo il timore, il timore che mi attraversa oltre allo straordinario entusiasmo e alla gioia di questa vittoria che spero sia non la mia vittoria ma la vittoria per Teramo e per i Teramani. Non nascondo questo timore ma sono consapevole e sono certo che mettendo insieme tutte le nostre forze noi riusciremo veramente a cambiare la storia di Teramo perché Teramo merita tanto, Teramo merita di recuperare il suo ruolo di capoluogo di provincia, Teramo ha davanti delle sfide enormi, noi ci siamo e ci saremo. Grazie a tutti!